Maradona, San Gennaro, il golf e la pizza sono solo alcune delle rappresentazioni che compongono il nuovo brand della città, inaugurato questa mattina in piazza Municipio alla presenza dell'assessore al turismo Teresa Armato. Napoli, come le grandi capitali europee, anche il capoluogo campano infatti da oggi ha la sua mega scritta, composta da 12 pannelli posizionati proprio di fronte al porto in modo da accogliere i turisti che già pochi minuti dopo il taglio del nastro ne hanno approfittato per scattarsi foto e selfie. Il progetto, realizzato dall'architetto Marco Tatafiore, si inserisce nella scia delle iniziative di Palazzo San Giacomo per sviluppare il turismo in città. Napoli è già grande destinazione in Italia insieme con Milano, Firenze, Venezia, Roma. Sono le città che stanno già in rete, sono le grandi città capitali internazionali del turismo ma sta diventando un riferimento turistico per tutta l'Europa e per tutto il mondo. Questo brand parla ai turisti, a quelli, ai croceristi che arrivano dal porto, a quelli che arrivano dall'aeroporto e dalla stazione e a tutti quelli che vengono qui per ammirare questa splendida piazza da dove si vede Sant'Elmo, il Maschio Angioino, dei palazzi bellissimi della nostra città, il porto, il mare e quindi veramente uno dei posti più iconici.